Ciao a tutti, oggi parlerò di questa moneta, i 5 franchi di Napoleone III del 1867. Questa moneta è stata coniata in 7 milioni di esemplari, è in argento a titolatura 900 su 1000, è classificata come moneta comune e il suo valore, se in condizioni splendide, è di 20-25 euro, se in condizioni di fior di conio, 30-40 euro. Ci vediamo nel prossimo video, ciao! Grazie!